I vestimenti sia sulla depurazione che sul ciclo delle acque, quali sono le principali chiedità e dove si andrà ad intervenire prioritariamente? È un passo importante nella riforma del sistema idrico e del sistema dei rifiuti. Ricordo le polemiche che ci furono quando portai in consiglio la riforma del sistema idrico con la minoranza che abbandonò l'Aula, i sindaci che protestavano. Eppure oggi questa riforma ha avuto i complimenti della Commissione europea che l'ha giudicata molto positiva, ha avuto l'apprezzamento di Arera che è l'autorità che si occupa di questa materia segnalando la Calabria come un caso virtuoso, mai successo in Calabria, ha avuto persino nei giorni scorsi l'apprezzamento di Giavazzi sul Corriere della Sera che ha segnalato quanti passi avanti si siano fatti in Calabria. Col piano d'ambito noi sblocchiamo le risorse comunitarie, circa 140 milioni di euro, candidiamo il sistema dell'idrico a utilizzare anche altre risorse, avete visto abbiamo avuto 20 milioni dal PNRR, potremmo attivare percorsi di finanziamento attraverso la Banca europea degli investimenti. Il piano d'ambito è qualcosa che in questa regione insieme alla riforma dell'idrico e dei rifiuti andava fatto 30 anni fa. Oggi la conferenza di pianificazione serve a lanciare il piano d'ambito, per la verità e l'aggiornamento del piano d'ambito perché l'AIC l'aveva approvata a dicembre 2020, quindi l'aggiornamento serve a dare forza a quella riforma che il Presidente Occhiuta ha voluto. Oggi capiremo del perché era necessario, anzi indispensabile, perché ci ha consentito e ci consentirà di mettere a terra le risorse comunitarie, cosa che prima erano completamente bloccati per via del Xpiano dove delle carenze portava al non impiego delle risorse. Oggi è una giornata importante perché abbiamo provveduto a fare l'aggiornamento del piano d'ambito. Praticamente è uno strumento di programmazione che ci consente di pianificare tutte le attività finalizzate alla realizzazione e all'afficentamento di nuovi impianti. Noi in Calabria abbiamo una situazione estremamente complessa, abbiamo oltre 500 impianti di depurazione, abbiamo rete idriche di grande adduzione realizzate della vecchia classe per il mezzogiorno che sostanzialmente ormai hanno raggiunto praticamente la vita nominale delle stesse. Per quanto riguarda l'intervento odierno e quindi la presentazione del piano d'ambito è un'attività alla quale insieme ad Arrical abbiamo lavorato nel corso del 2023. Voi sapete che la Calabria è caratterizzata da una frammentazione molto spinta delle gestioni, soprattutto sono gestioni comunali. È molto difficile raccogliere dati per quanto riguarda il servizio idrico integrato. Abbiamo cercato ovviamente in quest'anno di raggiungere il più possibile di informazioni per poter meglio definire quali possono essere le esigenze in termini di investimenti, quindi le criticità maggiori di questo territorio. Sappiamo tutti che questo territorio è caratterizzato da grandi schemi idrici costruiti all'epoca dalla Cassa del Mezzogiorno, che richiedono investimenti importanti di manutenzione e rifunzionalizzazione. Sappiamo che ci sono reti idriche che perdono moltissimo, sulle quali bisogna intervenire perché ci sono degli sprechi enormi. Quindi il piano d'ambito è un momento importante perché significa avere uno strumento di programmazione trentennale e delle attività che dovranno essere necessarie per migliorare i livelli di servizio di questa regione.